Buonasera, benvenuti a Sestri Levante, è ancora una giornata qui al Riviera International Film Festival, una giornata ricca di appuntamenti, ricca di ospiti, ricca di protagonisti che ovviamente cercheremo di condensare in quest'ora che passiamo insieme, che passeremo insieme, cercheremo di rendervene conto. Qui accanto a me subito un ospite, il primo ospite, che è il collega giornalista Fabrizio Gatti, giornalista di Cronaca, che ha lavorato per la Cronaca sia per il Corriere della Sera che per il Giornale. Buonasera Fabrizio. Buonasera, grazie a voi. Per essere qua, ma prima di cominciare il discorso con Fabrizio Gatti, io vorrei farvi salutare anche da quella che è in questi giorni, la mia compagna di viaggio qui a Sestri Levante, Silvia Isola, che è al Dufercolange. Silvia? Buonasera Dario, sì, un'altra giornata meravigliosa qui al RIF 2023 e allora avremo tante voci anche in questa serata da farvi ascoltare dei tantissimi protagonisti che si sono alternati oggi su questo palco alle mie spalle, al Dufercolange, ma anche in altri luoghi della splendida Sestri Levante. A te. Grazie Silvia. Perché Fabrizio Gatti è qui al Riviera Film Festival? Perché è in qualche modo l'autore, comunque è partito da un suo libro, una nuova serie di Sky che deve ancora uscire, che si intitola Unwanted. Unwanted parte da un libro che ha fatto molto scalpore di Fabrizio Gatti, che si intitola Bilal, Il mio viaggio da infiltrato verso l'Europa, che lui ha scritto nel 2007, che poi è stato rieditato di nuovo dalla nave di Teseo l'anno scorso, in cui lui si è finto clandestino. Si è finto clandestino, ha attraversato quattro volte il deserto del Sahara insieme agli altri migranti, si è infiltrato in una organizzazione di trafficanti d'armi e da questo è nata la serie. Prima di entrare nello specifico però, se permetti, io volevo ridare un attimo la linea a Silvia Isola perché si trova sempre al Dufercolange con uno dei protagonisti della giornata di oggi. Silvia. Una bella accoglienza qui a Sestri Levante. Beh sì, non me l'aspettavo insomma rivedere tutta questa gente, però mi dicono che sia un festival molto partecipato e anche molto appassionato, per cui credo che io sia soltanto stata amata, così qui vengono amati tutti i personaggi che partecipano a questo bel festival. I personaggi che hai impersonato davvero, non saprei scegliere io il mio preferito, quindi non oso farti questa domanda, ma lavorare con tanti registi come hai fatto tu, qual è allora quello con cui ti sei trovata meglio? Ma no, è molto difficile da dire, è impossibile, non lo potrei fare quantomeno per garbo ed educazione, però ti posso dire che i miei inizi sono corrisposti con la commedia e io amo sempre ricordare moltissimo Carlo Vanzina perché tutto quello che lui mi ha dato, la generosità con cui mi ha dato, è qualcosa che oggi mi manca molto e manca molto. Un festival di tanti ragazzi, qual è anche il tuo consiglio per chi vuole iniziare un percorso di questo tipo? Studiare molto, impegnarsi, l'impegno è una parola che amo, è un verbo che amo molto, impegnarsi significa mettere a servizio di qualcosa di più alto e che non riguarda solo la propria persona, ma riguarda il mondo, una missione, quindi vi dico impegnatevi che è tanto bello l'impegno. A proposito dei prossimi ruoli, hai svelato qualcosa un po' di diverso rispetto al tuo passato? Ma no, qualcosa che si inserisce in un percorso evolutivo. Qualcosa che puoi anticipare? No. Mi dispiace? Ultimissima domanda, il tuo rapporto con la Liguria? Beh, la Liguria è stata una delle prime regioni che ho visitato da bimba perché mio fratello ha fatto il militare qui e quindi mi ricordo la pizza genovese con grande passione, il mare, i colori e queste coste così straordinarie, molto diverse da quelle laziali, per cui è una terra magica. Grazie ad Anna Foglietta. Ed eccoci dopo Anna Foglietta, torniamo con Fabrizio Gatti, abbiamo già accennato a quella che è stata la tua esperienza, a Vilale il nome che ti sei scelto da infiltrato, diciamo così. Vuoi raccontarci brevemente questa che è stata, credo, un'esperienza oltre che unica, direi straordinaria per molti versi? Io parlo da collega, come giornalista, poter testimoniare quello che hai vissuto praticamente in prima persona assieme a tanti altri. Beh, era sicuramente un viaggio da fare, raccontare dal di dentro quello che noi vediamo soltanto nella parte finale, c'è questa lunga avventura, grande avventura di persone che si mettono in viaggio cercando di dare un futuro alla loro vita. Non è un approccio ideologico, ognuno ha le sue proprie ragioni, non è di questo che si parla, ma di storie, di storie umane. E il motivo per cui sono oggi qui è che da questo racconto, che è il frutto di quattro anni di lavoro da infiltrato sul campo, che è raccontato nel mio libro Bilal, è nata una serie straordinaria che andrà in onda in autunno, che si intitola Unwanted, prodotta da Sky, che avrà come registra un grande regista tedesco Oliver Ischbiegel e ha come uno dei protagonisti Marco Bocci. La serie riprende gran parte del mio viaggio, però ha avuto una traduzione cinematografica grazie allo sceneggiatore di Gomorra, Stefano Bises, e oggi con il responsabile delle produzioni di Sky Original, Nils Hartmann, abbiamo presentato questo lavoro che a me piace molto, è anche una grande emozione, perché mi rivedo in quelle immagini di nuovo nel mio viaggio, e l'abbiamo presentato qui, in questo luogo bellissimo che è Sestri Levante. Quindi mi sembra di capire che questa serie sia riuscita un po' a trasmettere sullo schermo lo spirito della tua avventura. Non solo lo spirito, ma anche la storia dei miei compagni di viaggio. È una scelta coraggiosa portare un tema così complesso sullo schermo, nelle case, è una scelta che ha fatto Sky ed è un racconto molto vicino al mio viaggio, poi ci sono tanti altri particolari che non voglio rivelare, perché li vedremo insieme dal prossimo autunno, quando la serie sarà lanciata. Io volevo chiederti come è nata l'idea di questa, da cosa sei partito, E poi come sei anche riuscito ad entrare in questa parte? Allora l'idea, io ho lavorato oggi, sono direttore editoriale, un grande quotidiano nazionale che si chiama Today.it, che è un quotidiano digitale. Il mio lavoro comincia quando ero cronista al Corriere della Sera ed è continuato da Inviato all'Espresso. L'idea era quella di raccontare cosa accade lungo il percorso per varie ragioni. Il primo perché vengo da una famiglia di emigranti e la mia stessa famiglia nei decenni passati ha dovuto scegliere tra rimanere nel luogo dove anche mia madre o i miei parenti erano nati o cambiare, cambiare luogo, mettersi in viaggio. L'altro aspetto era quello di pagare un prezzo io stesso se volevo raccontare queste storie umane e dovevo essere vicine. E un altro motivo importante per un giornalista era quello di dare un nome, una storia, un'età, alle tante persone che noi semplifichiamo con il termine di clandestini e che potrebbe essere ciascuno di noi quando si trova in condizioni di estrema difficoltà. Tutto questo è nata una serie di reportage e che poi ho riscritto in questo libro che a distanza di vent'anni dal giorno in cui sono partito, era il 6 novembre 2003, è ancora di estrema attualità tanto che Sky ha deciso di farne una serie. Qual è stato il momento più difficile di quell'avventura? Forse ce ne saranno stati più di uno, però diciamo quello che... Ma i momenti difficili sono stati tanti. Uno quando siamo finiti al confine tra Niger e Libia. Il Niger è un paese, uno stato a sud della Libia. Italia, Mare Mediterraneo, Libia, Niger. Siamo finiti in un accampamento dove c'era un'organizzazione terroristica legata ad Al-Qaeda. Per la mia presenza di europeo in mezzo a loro ovviamente si erano in qualche modo interessati e credo che da lì poi siamo scappati. Dopo mezz'ora ci siamo accorti nel deserto che ci stavano inseguendo. Sono stato anche fortunato, ma anche con un po' di pianificazione sono riuscito a tornare indietro. L'altro sono stati tanti episodi difficili anche come questo. Ho sempre cercato di tenere basso il profilo, ma l'aspetto più difficile è stato ogni volta tornare nella vita di tutti i giorni. Ma bisogna avere l'umiltà di farlo. Ho scelto di essere testimone come lavoro perché faccio il giornalista e questo però ogni volta che tornavo da questo percorso una parte di me non tornava indietro, rimaneva lì. Scrivere il libro Bilal è stato per me come scegliere una terapia. La scrittura è stata una terapia per condividere con i miei lettori quello che avevo vissuto e questo mi dà la possibilità di condividere le stesse emozioni. E speriamo che con Unwanted ci siano tante persone in più che possano condividere le storie indipendentemente dal modo di pensare che ciascuno di noi ha. Perché poi sono persone che cercano di andare via in cerca di una vita migliore sostanzialmente. Noi siamo in Liguria, abbiamo vicino una città straordinaria che è Genova. Da Genova sono partiti tantissimi bastimenti di italiani poverissimi che non avevano un luogo di destinazione ma partivano nel tentativo di sottrarsi alla fame e alla povertà. Ed è esattamente quello che accade oggi. La differenza è che oggi noi siamo il punto d'arrivo e non il luogo di partenza. Adesso sono passati tanti anni, ma cosa ti è rimasto ancora adesso? Se ci è rimasto qualcosa, ovviamente poi si stempera nel tempo ovviamente, di quell'esperienza. Beh, è rimasto tutto perché le emozioni sono state chiuse sotto un coperchio di cemento armato ma rivedendo le parti di serie che abbiamo rivisto anche oggi le emozioni sono così forti che non riesco a trattenere le lacrime. Ma questa è una parte vitale e sono felice di provare queste emozioni perché vuol dire che il tempo non mi ha reso cinico. Allo stesso modo, a distanza di tanti anni dall'uscita di Bilal, la prima edizione del 2007 poi è stato ripubblicato nel 2022, dopo tanti anni la situazione attraverso il Mediterraneo è rimasta la stessa. Questo è un po' il nostro fallimento, ma io sono ottimista come giornalista e come persona e credo che la condivisione della conoscenza attraverso la lettura del libro o attraverso la serie Unwanted possa portare più consapevolezza tra più persone e magari da questo portare anche una soluzione umana che esiste e sicuramente non è ideologica. Purtroppo in questi anni da una parte o dall'altra si è sempre detto Gli altri sbagliano abbiamo ragione noi e forse se il fatto dopo vent'anni, la questione dopo vent'anni è rimasta quella ancora come era vent'anni fa, vuol dire che abbiamo sbagliato approccio ma abbiamo ancora tempo per cambiare. E speriamo che in questa serie che vedremo, come ha detto Fabrizio, il prossimo turno possa aiutarci, possa dare un piccolo contributo. Certo le cose non si cambiano soltanto ovviamente con il cinema, con la televisione, con le serie però dare un piccolo contributo perché questo dramma possa entrare nelle coscienze di ognuno di noi e fare qualcosa per modificarlo. È un'avventura straordinaria e guardiamola, guardatela almeno da questo punto di vista. Io ringrazio Fabrizio Gatti per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie a Primo Canale e grazie alla Liguria. E do la linea adesso a Silvia che dal Dufercolange si è spostata in un altro bellissimo posto di Sesti Levante. Dalla Baia delle Favole qui sulla passeggiata di Sesti Levante in compagnia di Lavinia Longhi oggi un talk davvero molto partecipato e molto sentito da tutto il pubblico qui al RIF 2023 e allora partiamo anche proprio da questo incontro. Che cosa ti ha lasciato nell'incontrare ovviamente anche tante persone che ti hanno fatto domande su quella che è una carriera che si divide tra teatro, cinema, televisione e serie tv? Il momento bello di questo incontro è stato proprio lo sguardo, la condivisione con tanti ragazzi giovani che ti guardano un po' desiderosi di risposte o di grandi verità che un attore secondo loro dovrebbe dare. In realtà, come dire, io quello che dico sempre, che magari riporto anche adesso in questa intervista è che l'attore lavora per acquisire degli strumenti che riguardano la professione attoriale e delle competenze di recitazione ma che il lavoro grande è quello che dobbiamo fare su noi stessi quindi sul carattere perché sono due binari e vanno, come dire, costruiti bene entrambi per far andare poi il treno, altrimenti non funziona. Se non c'è un carattere, un equilibrio, una centralità, una forza, il coraggio di non mollare insomma sono tutte competenze che acquisiamo su noi stessi. Tutto questo cerchi di trasmetterlo anche nelle tue lezioni ad Accademia 09 abbiamo conosciuto tanti ragazzi che partecipano proprio al RIF di quest'anno la scuola in pratica ha chiuso per trasferirsi qui a Sesti Levante per dare modo loro di incontrarvi dal vivo e quindi anche nelle tue lezioni qual è appunto quello che cerchi di trasmettere anche nell'insegnamento? Questo, prevalentemente questo e poi diciamo la capacità di ampliare la loro sensibilità la loro empatia che sono due skills fondamentali dell'attore perché solo così puoi arrivare a comprendere i personaggi, ad amarli e non giudicarli quindi è un atto d'amore comunque di comprensione di quello che fa un personaggio, di quello che fa poi la gente. Ci racconti qualcosa in più del tuo percorso, anche di studi che poi ti ha portato appunto ad essere un'attrice, quali sono anche le competenze che hai acquisito e che metti in pratica grazie appunto ai tuoi studi? Guarda, lo studio dell'attore inizia magari in una scuola, in un'accademia però fondamentalmente non finisce mai perché la persona cresce e cambia e quindi bisogna rimettersi in pari con quello che si è diventati e quindi è un allenamento che non ha mai fine, non dovrebbe mai avere fine poi un attore che lavora tanto come dire si allena facendo, lavorando e l'esperienza migliore chiaramente è quella del set quando lavori direttamente però dietro è una palestra che bisogna continuare a coltivare. E come si continua a studiare? Si continua anche a sognare? Qual è allora il sogno di la vigna longhi? C'è qualcuno con cui vorresti lavorare? Un set dove vorresti andare? C'è qualche sogno che ci puoi svelare? Guarda, sicuramente i sogni ce ne sono tanti mi piace però pensare anche al presente perché poi allontaniamo quello che stiamo vivendo e invece bisogna dargli valore e importanza quindi un sogno già si è realizzato perché sto lavorando a una serie televisiva a Verlarai dal titolo Il Clandestino dove il protagonista è Edoardo Leo e quindi era comunque un sogno quello di incontrarlo e di poter lavorare con lui è la sua prima grande, lunga scusami, serialità quindi sono molto contenta di questo e poi invece sogni più per il futuro sicuramente mi piacerebbe interpretare un ruolo cattivo perché io sono una persona molto empatica, molto sensibile amo tantissimo le persone e quindi avrei voglia di così un po' di giocare allontanarmi da me stessa e interpretare un ruolo da cattiva anche perché ovviamente è una bella sfida per un attore cimentarsi in un ruolo un pochino più distante dalla propria personalità com'è lavorare con Edoardo Leo? è divertente, è bello, è bello lui è un grandissimo professionista e ti fa sentire nel posto giusto cioè in pratica ha già svelato quindi anche alcuni dei prossimi progetti altri che possiamo già annunciare in uscita? ci sarà anche Brennero che è un'altra serie sempre per la Rai e vediamo insomma non si sa quale delle due prima vedrà la luce se Brennero o il clandestino allora veniamo all'ultima domanda parlavamo in tutta questa edizione del Riff del confronto anche tra cinema e serie tv quest'anno tanti talk sono stati dedicati proprio alle serie e allora anche dal punto di vista di voi attori oggi lavorare in una serie comunque non è più visto come un qualcosa di minore anzi con tanti set che stanno emergendo forse le serie tv sono un po' il futuro anche del vostro mestiere non è assolutamente una cosa minore oggi come dicevi tu giustamente e chiaramente poi dipende dalla serie perché se ha successo o meno ma questo vale anche per i film molti film non hanno visibilità non hanno successo però sì ormai diciamo che c'è un allineamento tra i due mondi molto più anche proprio gli attori un tempo ma parlo di tanti anni fa c'era un po' era più settoriale c'era l'attore cinematografico e l'attore televisivo quasi si sconsigliava all'attore cinematografico di fare tv perché invece oggi no non è più così insomma si fa uno e l'altro senza senza problemi io ringrazio la vigna longhi per essere stata con noi noi la incontreremo altre volte qui proprio in vista della premiazione anche di domani qui a Sesti Levante grazie davvero grazie a voi a te ed eccoci di nuovo qui sul red carpet di primo canale con un altro dei protagonisti del concorso abbiamo imparato a conoscerli nel corso di queste giornate sia qui nella nostra postazione sia al vis-à-vis il regista che abbiamo con noi è l'ungherese Silas Bernath che ha presentato in anteprima italiana un film che si intitola Larry Larry è la storia di un pastore, di un ragazzo 21enne che è affetto da balbuzie che vive con un padre che un tempo era violento e che poi ha trovato una sorta di conforto nella religione lui cerca di superare questo problema che ovviamente lo mette un pochettino in disparte nel confronto della società fino a quando non si rende conto di avere un certo talento per il rap e comincia a fare canzoni con il nome d'arte appunto di Larry che è il titolo al film e finisce per avere una inaspettata popolarità su YouTube e com'è nato questo film? ne ringraziamo come sempre Valentina che ci dà una mano grazie a voi rapide traduzioni grazie a tutti i nostri stori grazie a tutti i nostri caratteri e si applica a questo talento con la sua musica hip hop e il suo caratteri studiarono per mi spiegare a scrivere il script è basato su una storia vera questo film nel 2015 c'è stato un contest un concorso per ragazzi, per rapper su YouTube e questo personaggio ha deciso di partecipare con la sua musica hip hop ed è diventato a quel punto una storia molto conosciuta molto popolare dal est dell'Ungheria è arrivata a essere popolare a livello nazionale e questo film è più un racconto di formazione o un racconto su quello che può essere il valore salvifico della musica? la storia più importante o la musica può salvare i caratteri? penso di due perché è praticamente un drama di primavera ma la cosa più importante su questa storia di primavera è la possibilità di rinforzare dei nostri traumati e la musica è una storia molto importante nella sua mano per rinforzare il suo trauma perché si stuttersa molto male ma durante la musica hip hop durante la sua arte può rinforzare i traumati è anche un film che sottolinea come la musica possa salvarci perché Larry ha questo trauma balbetta molto forte e la musica riesce a salvarlo a farlo uscire da questo quando lui canta non sente il peso di questa balbuzia e di questo trauma quindi nel suo processo di crescita la musica gioca un ruolo fondamentale nel momento in cui lui riesce ad andare avanti ed a fermarsi nonostante questa sua balbuzia molto forte adesso volevo sapere qualcosa di più su lui come regista come ha cominciato come ha incanalato questa passione quando io andavo in high school la mia professore di literature era molto importante e era un club film e la prima volta che ho visto questi film come The Clockwork Orange o I don't know the Pasolini movies or you know the taxi driver so this kind of movies with anger this genre is getting more and more important to me during my twenties but after the university I started to teach I was a literature teacher for like eight years but during this period I started to make short movies and somehow I got to my first feature to Larry di un professore di letteratura a sua volta lo ha fatto per otto anni e pian piano ha iniziato a creare dei cortometraggi quindi è stato un processo che poi lo ha portato al suo primo lungometraggio che è quello che vediamo qui a Sestri Levante in questi giorni e per finire volevo chiedere proprio qualcosa sulla sua esperienza qui a Sestri Levante com'è questa esperienza come è la sua esperienza a Sestri Levante come è la sua esperienza per otto anni? è proprio ecco ecco ho arrivato ieri ma ho già amato la città e le vibrazioni e la felicità che le persone italiane possono usare nella vita quotidiana quindi è ecco per me è arrivato ieri ma è già entusiasta di essere a Sestri Levante gli piace molto le vibes l'atmosfera che si respira qui la gioia che noi persone italiane riusciamo a mettere anche nella quotidianità e gli piace moltissimo bene noi ringraziamo il regista ringraziamo Silas Bernath gli facciamo tanti auguri per la sua carriera sperando che Sestri Levante gli possa portare fortuna e a questo punto io vi passo a un piccolo servizio che vuole testimoniare un po' quelle che sono le risposte degli spettatori ai film che vedono in questo caso il film è di una regista slovacca che abbiamo intervistato proprio ieri e abbiamo sentito uno degli spettatori all'uscita del cinema Ariston dove è stato proiettato e oh oh Pane Boże sei tu 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 mille chiam sei tu sei tu sei tu sei tu perdite Non lo so. Non lo so. Chi si è fatto? Non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so. Se si è stato preso, si sono preso in giro. Non lo so. Che cosa è che sta? Che cosa è? Che cosa è? Non lo so! Siren è un buon horror con un'atmosfera interessante devo dire con una tematica come dire trasposta nell'horror un po' della misoginia un po' della paura delle streghe che può essere ancora radicato nella nostra società tutto sommato un buon film un finale un po' come dire di quelli a interpretazione però un film piacevole Eccoci di nuovo sul Tappeto Rosso di Primo Canale con un ospite veramente straordinaria che io ringrazio è il personaggio certamente più importante di questo Riviera Film Festival senza voler togliere niente ovviamente a tutti gli altri ma abbiamo con noi Emily Mortimer che è la presidentessa di giuria della sezione dei lungometraggi parlando di Emily Mortimer parliamo di una carriera incredibile insomma ha girato film con Woody Allen Match Point con due film con Scorsese Ugo Cabaret e Shutter Island Rob Marshall il ritorno di Mary Poppins e tanti altri ancora è un piacere averla qui cerchiamo un po' di fare luce ancora di più su quella che è la sua carriera come iniziate la sua carriera? lei inglese è nata a Londra però ovviamente poi si è trasferita negli Stati Uniti la sua carriera come iniziate la sua carriera? oh well I just always wanted to act from when I was a little girl and I really started just doing plays on the television for my mom and dad I mean on the stairs at our house I would act out plays and just perform whenever I could for my parents and so I started when I was little but I was a very shy child and so I think acting was the only way that I could express myself really ha iniziato quando era piccolissima aveva sempre ha sempre avuto questo amore per il cinema e all'inizio recitava per i genitori sulle scale di casa proprio riproduceva gli show della televisione per la propria famiglia era una bambina molto timida quindi recitare l'aiutava ad esprimersi era forse l'unico modo per potersi esprimere liberamente e poi come come si è incanalata questa passione questo come è diventato un lavoro? come is passion to make your job out of it? I just always acted at school and then at university and an agent happened to come to see a play I was in at university at Oxford in England and she wrote me a letter and said I would like to represent you and I was amazed when I opened this letter and I actually got a job on the television in England before I had even left college and so in that way it was kind of easy for me but when I wasn't acting life was difficult but when as an actress it came quite easily è stato un percorso molto spontaneo molto naturale ha continuato a recitare quando era alle superiori e poi all'università ha fatto l'università di Oxford e mentre era all'università ancora prima di finire di completare gli studi ha ricevuto una lettera in cui la chiamavano a partecipare a uno show in Inghilterra e questo le ha aperto diciamo le porte e la sua sensazione è che la vita sia stata più difficile quando non recitava ma in realtà quando recitava sia stata facile e quasi spontanea c'è stato un momento o meglio qual è stato il momento in cui lei ha detto ha pensato ce l'ho fatta in questo momento con noi è molto gentile tra l'altro il cinema ha fatto conoscere anche l'amore ha fatto incontrare l'amore nel cinema l'amore della sua vita l'amore della sua vita come dicono come dicono negli States negli Stati Uniti e appunto ha origini italiane i genitori vengono da un piccolo villaggio della Sardegna e si sono incontrati sul set quindi da quel momento è stata una storia d'amore questo le ha creato anche un rapporto più stretto con l'Italia ovviamente perché poi so che già quando era piccolo con suo padre lei frequentava la Toscana frequentava il Chianti la zona del Chianti As you were as you was a child you came to Tuscany with your father but marrying Alessandro created a stronger boundary to Italy isn't it? Yes we've always everyone in my family has always felt passionately about Italy and I came here every year from when I was a child to Tuscany yes in Chianti with my father and there's a big tradition of English people loving Italy you know with the Brownings and Byron and Shelley especially in this area and so a lot of English people have always been in love with Italy as well as people from all over the world and I fell in love with an Italian he's a little bit Italian but he got his citizenship two days ago in America so everybody is very happy It's just like when I was a child I came to Tuscany in Chianti in Toscana in Chianti with my father there's a big tradition of English people who love Italy ad esempio anche Byron Shelley soprattutto in questa regione in Liguria con il Golfo dei Poeti e loro non erano da meno in fondo alla fine ha sposato anche un italiano o comunque che ha una parte di italianità ma due giorni fa ha ottenuto la cittadinanza ufficialmente quindi sono tutti molto contenti di questo come sceglie i suoi ruoli i ruoli che interpreta qual è ciò che la fa che le fa preferire un film piuttosto che un altro come sceglie penso è difficile trovare un criterio comune o spiegare quali sono i motivi che la spingono a scegliere qualcosa piuttosto che un'altra prima di vedere le scelte che ha a disposizione è un po' come essere adesso nella giuria del festival ci sono tanti film e solo nel momento in cui li vede riesce a capirli a coinvolgersi a essere coinvolta emotivamente allora sa quale le è piaciuto oppure no con i ruoli succede la stessa cosa finché non legge non vede l'idea non si sente coinvolta emotivamente non riesce a scegliere se questo è il ruolo che fa per lei c'è un film tra quelli che ha girato ne ha girati tantissimi Emily Mortimer a cui si sente particolarmente legata per un motivo o per un altro hai studiato in molti film quale film ti piace la più o hai sentito che tua interpretazione davvero fitta la film oh gosh hai studiato in molti difficoltà question sì 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 mi piace molto la mia performance in un film che si chiama trans-siberian che era un film con Woody Harrelson che abbiamo filmato in Europa in Lithuania which was a Brad Anderson movie the same director that did The Machinist and I really liked my role in that and I felt I connected with it and I think it was a great film and then there's another film called Lovely and Amazing which is by an American filmmaker called Nicole Holofsena that I was one of the first times I really felt like oh I have found what I want to do and I was surrounded by interesting people and interesting actors but then also working with Martin Scorsese you know twice was one of the great highlights of my life as well so there's too too many different movies I have loved pick one I can't pick one difficilissimo sceglierne uno ha lavorato in moltissimi film ma ce ne sono due in particolare in particolare uno che si chiama Lovely and Amazing che è stato girato in Europa e un altro Trans-Siberian che è stato girato in Lituania dove in entrambi i casi era circondata da persone fantastiche che l'hanno fatta sentire a proprio agio dove pensava soprattutto in Trans-Siberian che il ruolo fosse stato proprio scritto per lei e ovviamente lavorare con Martin Scorsese per il quale ha fatto due film è stata un'esperienza unica che le è piaciuta molto nel 2021 lei ha fatto anche un film da regista The Pursuit of Love in 2021 you directed che esperienza è stata stare dietro alla macchina da presa I really liked it very much I enjoyed it because I find being in front of the camera very scary and as I said I'm a shy person so I found being behind the camera it stopped being about me strangely it was more about just telling the story and when the camera's on you you're very it's all you get very neurotic like am I pretty enough am I funny enough am I charming enough and that gets in the way sometimes of doing your best work but when you're directing it's only about the story and telling the story and communicating something I really loved it le è piaciuto tantissimo è stata un'esperienza completamente nuova perché lei ha detto prima che era una ragazza molto timida e ancora questa timidezza comunque c'è quindi essere davanti alla telecamera significa preoccuparsi sempre anche di come si appare sono divertente abbastanza sono abbastanza carina sono a posto va tutto bene mentre invece stando dietro alla telecamera ci si concentra esclusivamente sulla storia perché a quel punto è l'occhio che guarda la storia che deve essere raccontate è stata un'esperienza che ha amato tantissimo Ce ne saranno altre da regista? Speriamo e ci sono buone chance perché sta scrivendo adesso un film e spera di poterlo dirigere presto, di poterlo rendere presto realtà. Magari portarlo qui a Sestri Levante? Maybe you can bring your movie then to the next festival in Sestri Levante? Yes, definitely. L'ultima cosa che volevo chiedere è proprio sull'esperienza qui a Sestri in questi giorni. Non le chiediamo dei giudizi specifici sui film, ma globalmente con la qualità dei film che ha visto. So the last question is about your experience in Sestri Levante, namely. We don't want to know which movie is going to win, but what is your feeling about the movie? Do you like the selection? Do you like the festival and the competition? Yes, I love this festival. It's very interesting and beautiful to, you know, see all these films made by young filmmakers and understand what young artists are feeling and I feel very honoured to have got to watch these extraordinary films and fascinated by them. And I think there's very common themes in a lot of them, which I'm interested in. And a lot of them seem to me to be about going back to small villages, home, where maybe many generations of family have lived. and I wonder whether a lot of these movies are about that theme and I wonder whether there's something to do with what happened in COVID, where people left the big cities and went to the smaller villages and got in touch with their past in a way, in some ways that was good, in some ways that was kind of, you know, scary or strange. Anyway, it's been a very interesting experience. It's an experience very interesting. Adora la selezione, adora i film che sono in competizione, li trovo molto interessanti, soprattutto perché i film sono tutti di registi giovani, quindi è interessante vedere che cosa sentono i registi, che cosa vogliono comunicare. E ci sono dei temi a cui si sente anche molto legata. Un tema in particolare che sembra essere un po' il filo conduttore di diversi film è il ritorno a casa, il ritorno alle origini, il ritorno nei piccoli villaggi e quindi di conseguenza alla famiglia. E potrebbe in qualche modo essere collegato all'esperienza del COVID che ci ha costretto oppure ha portato alcune persone, in certi casi, a scegliere di ritornare nei propri villaggi e riscoprire questa parte di loro stessi, che può essere bello, affascinante, ma può anche far paura di entrare in contatto con questa parte di noi. Noi ringraziamo. Thank you. Thank you very much. Ringraziamo a Imi Mortimer per essere stata con noi. Speriamo di rivederla a Sestri Levante, quantomeno il più presto possibile. Come back soon to Sestri Levante. E a questo punto io ridò la linea a Silvia Isola che si è spostata ancora. Vediamo con chi è in questo momento. Dal nostro secondo studio, dalla terrazza del Vis a Vis, siamo in compagnia di Antonio Scurati. Abbiamo visto il suo evento M da storia di un bestseller, un bestseller che diventa serie TV, ma partiamo proprio da questo punto. Come un libro, o più libri in questo caso, una saga, possono diventare una serie. Qual è anche il processo allora che porta la nascita di questo fenomeno? Lo diciamo per tutti i ragazzi presenti qui a RIF 2023 che magari sognano di diventare scrittori e poi chissà, autori anche di una serie TV. Ma è una strada molto lunga. È una strada lunga quanto la vita, quanto l'esistenza. Io che insegno anche scrittura creativa da anni, lo dico sempre ai ragazzi, non si fanno le tortine, cioè con la ricettina metti questo ingrediente, metti quello. I libri, i film sono degli oggetti che tu incontri in un cammino vasto quanto la tua vita. E poi dove conduce questo cammino non si sa. Io ho scritto tanti libri prima, ci sono stati molti progetti di trasformazione, trasfigurazione, trasposizione cinematografica di miei libri in precedenza. Abbiamo scritto sceneggiature, sono arrivati a un passo e poi non si sono fatti. A 50 anni scrivo questa saga, diventa una serie, diventa uno spettacolo teatrale. Adesso stiamo lavorando a trasposizioni da altri miei romanzi precedenti. Insomma non ci sono vie brevi, non ci sono ricettine. Il fatto che diventi una serie certifica ancora di più il successo di quello che comunque è un best seller. Sì, ma io adesso mi hai nominato i ragazzi, allora il pedagogista che in me parla ai ragazzi. Ma il successo ragazzi è il participio passato del verbo succedere. Non è una parola muleto, non state lì a... È successo, sì, è successo. È chiaro che uno è contento quando c'è tanti spettatori, quando c'è tanti lettori, ma è in questi termini che bisogna pensarlo, no? Tante persone che guardano, riflettono, ammirano, criticano la tua opera, ecco. Se no il successo non ha tutto sto senso, ecco. Qual è il ruolo dell'autore nel momento in cui davvero dal libro si arriva poi a uno spettacolo teatrale o una serie tv? Ci sono magari anche persone che preferiscono non essere presenti, chi invece preferisce invece di essere proprio anche sul set magari per ovviamente osservare come sta andando? Sì, allora, guarda, lo dicevo prima, tu ti trovi a un primo bivio, poi ti trovi a tanti altri bivio successivamente. Il primo bivio è sto dentro e sto fuori, no? Prendo quei soldi, tanti o pochi, che ti danno e poi mi siedo comodamente in poltrona, aspetto di vederlo e di alzare il ditino e dire non mi piace, no? Non sono io, non è roba mia. Oppure sto dentro e cerco di contribuire a che mi piaccia, a che possa poi ritrovarmi. Io ho scelto la seconda e da lì comincia tutto un percorso accidentato, no? Di inciampi, difficoltà, ma anche, 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 già è difficile. Stavo guardando di recente questa bellissima serie che si chiama The Offer, che ricostruisce la storia della realizzazione del padrino, che veniva da un enorme successo letterario, il libro di Puzzo, e a un certo punto questo mitico producer della Paramount dell'epoca dice a un suo assistente, dice, regola d'oro di Hollywood, mai ingaggiare l'autore del libro, no? Che è una cosa che giustamente avranno pensato spesso anche i produttori in questi mesi, anni di collaborazione anche con me, no? Mai coinvolgere. Però il padrino Puzzo scrisse la sceneggiatura insieme a Francis Farcopola e venne fuori qualcosa di buono, mi sembra, no? Sono tanti i casi letterari, anche magari di compositori come Verdi, che erano comunque sempre presenti nella stesura del libretto, però io volevo sapere, il linguaggio della serie tv permette oggi, come oggi, vedendo anche un po' come sta andando l'editoria, anche se io credo che poi in realtà si legge ancora, e si legge ancora tanto, però permette di arrivare ancora di più ai più giovani, a un pubblico quindi che possa prendere meglio la storia? Ma sì, sicuramente, credo che le serie tv abbiano, come dire, abbiano nel pubblico giovane, sul pubblico giovane una forza di fascinazione maggiore di quella dei libri, ma una delle cose che a me ha fatto molto piacere, diciamo, del successo, per tornare alla parola di prima di M, è che lo abbiano letto anche molti giovani. E poi posso dirti anche, io non so proprio tutto sto feticismo della gioventù, è importante parlare ai giovani, faccio l'insegnante, quindi figurati, ma voglio dire, ci sono anche le altre età della vita. In ultimo... Non avevi detto che mi facevi due domande. In ultimo chiediamo davvero quanto è importante ancora oggi parlare a punto di M? Ma io credo che sia essenziale, se no non l'avrei scritto, se tu pensi all'argomento, al fascismo, a Mussolini, io credo che noi si debba ereditare dai padri del Novecento l'antifascismo che è a fondamento della nostra Costituzione, della nostra democrazia, della nostra civiltà. Ma essere eredi richiede un atteggiamento attivo, cioè dobbiamo meritarcelo, dobbiamo riappropriarcene e quindi dobbiamo rinnovarlo, rinnovarlo e raccontare un modo di prendere il testimone, no? Grazie ad Antonio Scurati per essere stato con noi, a voi. Rieccoci nello studio sul Red Carpe di Primo Canale con un ospite nuovo fino a un certo punto perché noi abbiamo cominciato questa serie di trasmissioni con Anna Favella e siccome è andato tutto bene è come se ci avesse portato fortuna e quindi abbiamo voluto riaverla qui questa sera. Domani ovviamente saremo di nuovo in diretta alle 18 ma per la premiazione, quindi non saremo più qui, saremo nell'ex convento dell'Annunziata e quindi per questa ultima postazione, diciamo così, abbiamo chiesto ad Anna di tornare a trovarci, l'ha fatto con molta simpatia e con molta generosità. Molto noto televisivamente, insomma, Cento Vetrino, Medico in Famiglia, Luis Miguel, però volevo partire dalla sala buia, non tanto dalla televisione, cioè le emozioni che ti dà fare cinema. La sala buia è una magia indescrivibile, è la magia che si condivide sia con il pubblico in quanto spettatrice sia come attrice appunto ed è una cosa pazzesca perché è veramente un po' nuovo cinema paradiso, no? È tornare bambini, è accendere l'immaginazione, staccare tutto per due ore e proiettarsi all'interno di un altro mondo. È un po' quello che sta accadendo anche qui questi giorni, quindi ritornare nella sala buia, silenzio, concentrazione e al via l'immaginazione nei mondi dove tutto può succedere poi. In questi giorni tu sei stata esperienza, cioè è stata giurata dei corti, dei documentari che tra l'altro tutti sulla sostenibilità ambientale che diciamo è un po' anche un tema che a te è molto caro. Volevo chiederti questa esperienza qui a Sestri, come è stata in generale? Ma guarda, sta andando benissimo, mi dispiace tantissimo che oggi è il penultimo giorno perché io ormai mi sono ambientata, ormai venirvi a trovare per me è come andare a trovare dei vecchi amici e poi Sestri veramente è una località che non conoscevo, mea colpa, che ho conosciuto grazie a Rivera Film Festival, quindi ringrazio doppiamente per questa opportunità ed è una location, ma voi lo sapete benissimo, meravigliosa, suggestiva, dove c'è questo mare che per me è sempre casa. Quindi sono molto legata al mare e sono nata e cresciuta in un posto di mare e faccio parte, sono ambassador di associazioni che appunto difendono e tutelano i mari e quindi essere qui per me veramente è un po' riconnettermi sempre a quest'elemento naturale che mi dà tranquillità, ma mi dà anche molta carica, molta energia. Avere un festival di cinema qui è magico. La Liguria è un posto spettacolare, c'è il verde e il blu che ti avvolgono e ti caricano come solo la natura sa fare. Poi scusami, volevo dire questa cosa di questo signore che si aggira per Sestri che sta costruendo un leudo di questa storia fantastica, è bellissimo, quindi ecco si sentono anche queste storie di persone, si scoprono veramente cose meravigliose e ti ripeto, per me è una bellissima occasione domani perché ci sarà la premiazione, sarà una grande festa, ma anche un grande dispiacere che sta finendo. Non voglio sapere niente, avete già scelto il vincitore? No, domani ci sarà questa riunione. Quindi dovete ancora picchiarvi? Domani sì, domani sarà una bella giornata secondo me in cui ci scanneremo perché veramente ci sono dei documentari molto interessanti e film altrettanto belli, non li ho visti tutti ma ho sentito ecco per esempio i registi l'altro giorno che erano ospiti e parlavano dei loro film, registi giovanissimi. Oggi ho assistito a due masterclass bellissime, una più bella dell'altra, quindi non solo riempio gli occhi con film stupendi, ma anche le orecchie perché ascoltare poi dei talenti, degli addetti ai lavori che mettono a disposizione la loro esperienza per me è sempre tornare fra i banchi di scuola e poi io perlomeno sono veramente una persona molto curiosa quindi ogni volta c'è sempre qualche cosa di nuovo da imparare e questo festival ci sta dando l'opportunità di continuare ad imparare. Io ringrazio di nuovo Anna Favella per quello che ci ha dato in queste giornate che ha dato anche al primo canale più volte ospite e non dico niente faccio i migliori auguri per la tua carriera magari ci rivedremo di nuovo qui a Sestilevà Volentieri, volentieri Speriamo e a questo punto vi do la linea Silvia Isola con l'ultimo ospite per quello che riguarda la trasmissione di oggi. E ancora dal nostro secondo studio qui dalla terrazza del Visavi con questa splendida vista mare siamo in compagna di Francesca Comencini oggi una masterclass con tanti giovani tanti partecipanti come è andata? Parto intanto da qui. È stata stupenda e non finiva mai ci hanno dovuto interrompere perché le domande dei ragazzi e delle ragazze erano tantissime erano curiosissimi è stato proprio un bel dialogo. Qual è quella che l'ha colpita di più? Ma la domanda ricorrente era come si fa a iniziare come si fa a fare questo lavoro come una sensazione che fosse una difficoltà insormontabile un mondo affascinante ma difficile da affrontare e quindi con Pacchi Meduri lo scenografo di Django e io abbiamo cercato di dare dei consigli dicendo che ci sono di prendere il buono di quello che la tecnologia oggi offre in realtà la tecnologia offre dei mezzi per poter fare dei film in maniera relativamente molto semplice anche economica e di una qualità buona molto alta e quindi di essere delle spugne di essere curiosi di tutto dei libri dei film delle mostre degli altri delle vite degli altri di raccontare ciò che a loro sembra piccolo vicino a loro la propria vita e di farlo perché se se fai puoi sbagliare ma se non fai non fai abbiamo citato Django appunto e allora veniamo proprio a questo soggetto un soggetto ancora molto interessante oggi lo testimonia anche proprio la miniserie che avete realizzato quanto è stato anche difficile magari interfacciarsi con un'opera così tanto anche nel tempo affrontato ma è stato molto difficile perché diciamo le opere precedenti sono delle leggende del cinema quindi io ero abbastanza terrorizzata naturalmente come penso chiunque sanno di mente sarebbe stato al posto mio però è stata una sfida e questo che cercavo di dire anche ai ragazzi e alle ragazze laddove c'è qualcosa che ti fa paura è lì che devi andare non stare mai nella facilità secondo me questa serie era interessante era una sfida perché era un'occasione non solo di fare qualcosa di ambizioso di creativamente veramente unico ma anche di parlare delle paure di oggi dell'oggi attraverso il western che è un genere che infatti si rinnova continuamente perché è proprio il genere che è la fiaba nera per gli adulti che consente di affrontare e forse anche di esorcizzare le nostre paure il tema del riff è appunto anche l'attenzione che si è voluta porre quest'anno sulle serie tv che rappresentano un po' il futuro anche di tanti mestieri che ruotano attorno al cinema dal suo punto di vista offrono tanto possibilità continuerà in questa direzione il settore perché ovviamente da giovani ci si chiede sempre poi come intercettare anche il futuro ma sicuramente le serie sono state non solo una possibilità di lavoro enorme hanno dato lavoro a tantissime persone hanno fatto emergere tantissimi attori e tantissime attrici che non lavoravano abbastanza quindi sono un grande una grande occasione e naturalmente presentano anche delle difficoltà per esempio i registi e le registe devono lavorare in squadra spesso non hanno il final cut c'è molte voci che entrano molto più che su un film e che bisogna saper gestire e saper anche affrontare e talvolta non aver paura di dire dei no Francesca Comencini chiudiamo con se lei mai dirigerebbe qui un film o una serie nella nostra Liguria le farebbe piacere un set di questo tipo? sono molto legata alla città di Genova perché per motivi non allegri perché ero qui durante il G8 e sono adoro però anche la Liguria per la sua bellezza sarei felicissima sono felicissima di essere qui è stata una giornata veramente lo dico senza retorica è stato molto bello essere qui chissà un giorno magari ci verrò magari racconterà una storia proprio delle tante storie da documentare proprio qui nella nostra Liguria grazie per essere stata con noi grazie Silvia noi ci fermiamo qui domani sarà la giornata conclusiva di questo River International Film Festival che ovviamente continueremo a seguire in diretta due importanti incontri domani mattina tra il pubblico e i protagonisti del mondo del cinema il primo con Emily Mortimer che abbiamo avuto il piacere di avere qui con noi il secondo con i protagonisti di Blanca una serie che noi conosciamo molto bene dal momento che come sappiamo è ambientata a Genova poi alle 18 il primo canale seguirà in diretta l'evento conclusivo un altro evento importante per ogni festival quello della premiazione verranno premiati sia i lungometraggi che i documentari prima di lasciarvi e vi facciamo vedere però il meglio di questo River International Film Festival della giornata di ieri di questo straordinario appuntamento in cui è Sestilevante l'appuntamento di primo canale con questa manifestazione si rinnova domani di questo di questo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.